di madonna aveva appena messo pronta perché io metto subito non è come la tua la tua switch della cacca la switch è il wifi di merda no bella raga io sono alle 02 oggi siamo nuovi su forte nella nuova season oggi vedremo a fare una bella partitina di voglia di kill giusto samu cosa ma andiamo fare un po di kill dai la vittoria l'abbiamo già fatta la vittoria l'abbiamo fatta colpa non c'è un cacchio ora dai la cacca voglia di kill ve le rubo tutte tanti che il gratis 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 e con la banca intergenziale andiamo a investirli la sua prima partita questa è la sua prima partita un po di piccone asti qua e poi abbiamo fatto vittoria la facciamo anche adesso andiamo dopo messo il ping ricordate che siamo in video occhio le parole aspetta che non trovo la barca perché con la barca sono pericoloso io posso investire un po di gente una barca perché l'hai detto ero vado investire gente no c'è la casa centrale io l'ado la voglio in quella casa vabbè vai a morire grazie è una casa interessata si ma è strana però interessante voglio vederla io non ho visto certi posti ma non c'è nessuno appunto io sono genio anche da te c'è qualcuno da me anche ma anima viva c'è non c'è proprio nessuno ti vuole un po del nonno verde e anche no perché io ti ho intanto c'è il tattico ma io c'ho quello che è verde e io voglio anche io il tattico pescato pesce cosa ve ne faccio di un pesce ma indietro per la salute io voglio che bello pescare sopra il tetto di una casa abbiamo pescato niente proviamo che abbiamo il copyright si raccolto di colpi io riprovo non me ne frega voglio pescare qualcosa di bello è bello divertirsi così i nemici non ci sono però voglio pescare ma adesso ti compare un nemico davanti questo pesco nemico sai come sai si può fare come su mai ho idea ho idea tipo tipo lui ha costruito una cosa gigante tu lo attiri da l'arte sei basso cade per terra ci scuola non l'aria quello che quando casca terra tira uno di quei porconi che lo sentono fino a fin in cina lo sentano fino in cina un'altra parte del mondo anche raga la raga nuova moto nel 2019 su fortuna in tenere i fiori belli in bagno che bello ci sono dei fiori in bagno o è morto qualcuno hanno messi così tanto per far più bello il bagno per fare più bene il bagno sì sono l'aspetto troppo triste quindi fiori e devi guardare qualcosa qua c'è il robo che ti può migliorare le armi ma lo posso fare mi aiutate con i massi mi date un po di mattone quante mattone avete gente ok che è piuttosto che sta laggando eh vieni ti regalo l'aug basta che mi dai con la pagana di pesca raga non la voglio ma giovi ti do l'aug se mi regali ma ok vai chi sento uno sai cos'è che non ti sai che non ti darò più kill dai dammi il mattone vieni qua e dammi l'aug milano quanto god o 200 di mattone 286 il lato 1 raga e poi ferro quanto ne hai raga che non faccio domande perché in questa cazzo di casa è pieno di carta igienica ma cos'è uno che ha bisogno di pulirsi il culo ma che c'era proprio sporco così tanto che ha bisogno non so pacchi 10.000 pacchi di non so di cartigienica per pulirsi il culo non so 350 di tutto per l'aug leggendario raga ma mi pare normale cartigienica in casa non so c'è una stanza p e ricoperta di cartigienica vabbè di rotto di cartigienica o è che adosca aveva i suoi bisogni e aveva bisogno di riferimenti o non lo so come questi con lanciarazzi comunque allora vediamo se lo dicono sono a botte però mirano se lo mette scritto che fanno non c'è niente ha una cesta bella cosa mi è andata un salto per la testa è molto poco ai bottini vorrei io grazie voglio un po giugno di vita non va a cia ci vedo qualcuno possa anche no cosa cosa rara i pesci questi quasi possono prenderlo non so che ci sono nell'acqua ho sto poco vabbè niente hai del ferro che sto ora aspetta un attimo ok un altro pilota ok un altro quasi pilota raga pronta la barca si raga ho la barca raga andiamo a comandare con la barca intravenziale bambam bambam raga io la barca spacca di brutto la barca sapete qual è il bello della barca raga sapete qual è il bello della barca raga sapete qual è il bello della barca che può andare fuori strada un nuovo 4x4 non tanto funzionante bene raga un 4x4 che funziona che sia nell'acqua che sia nella terra la nuova invenzione del secolo ecco raga mi sa che fanno la nuova invenzione le barche che vanno anche nella terra ecco la logica di questo gioco quanto ce ne ha è veramente così tanta che che castoro la logica di questo gioco è così strana che varà è anzi così bellissima no ma non è immaginato no immaginate di andare in giro con la barca in strada e potete assoluto andare in acqua con la barca sto arrivando con la barca interagenziale raga portate pazienza portate pazienza sto arrivando sto arrivando mi sono perso qualche kill mi stavo divertendo con questa bellissima barca 150 giusto vado a prenderlo nooo perchè dici ma me lo dici coprendo prima io ma no grazie broscar mi dai colpi a r ne ho 100 grazie per lanciarazzi molto gentili sardi grazie e arrivederci o ce n'è un altro c'è un altro arrivo 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 no no sta prendendo mamma ciao brava altrimenti se ti stillo un'altra kill cosa succede? ok questa era un bot cosa hai kill? chi vuole i kill? chi vuole i kill? no vabbè fa 9-5-99 di mass arrivo grazie a terra bravo Ale bravo Ale bravo Ale non fermo la kill ma tu me li spinti sempre mi dai un po' di mass mi fermo la kill raga dai grazie avevo zero di tutto mi ne ho un 999 di legno quindi te lo dò hai colpi scar giusto? perché non ce ne ho si questi non ce ne ho raga ricordate lasciare un bel like con sto video razzi si ce ne ho 6 e iscrivervi al canale così non perdono i prossimi video e almeno i 6 sono i ragazzi che ai pastori ce li ho c'è ne ho eeeh i ragazzi si dai 6 vanno a posto si ce le ho 6 ma tu hai il lanterà no 5 5 posso usarli poi non ce le ho 6 quante kill avete? e ne ho 2 io 8 eh scusate prima mi stavo giudendo con quella barca sai voglio un po' divertirmi con queste belle barche sapete hanno così hanno inventato la funzione che può andare anche nella terra il gioco il gioco più bello del mondo appunto raga nel 2019 le barche non andano solo nell'acqua ma andano anche in strada quindi non dovete più usare le vostre auto per andare in giro userete le barche oh la barche così potete andare che sei l'acqua che sia in strada con lo stesso veicolo e l'assicurazione non vi paga i danni per l'acqua che entro nella barca dopo i danni dell'acqua essere stati in strada se non avete le eliche cazzo i vostri appunto è vero se non avete le eliche cazzo i vostri io sono un gazzino iconico se dovete sbattere contro la casa cazzo i vostri se andatevi a schiantare contro un prete cazzo i vostri no Trollo lo fa molto meglio fa rar non so fare manco io Trollo è molto più esperto quello è un delpino con dei problemi un problema con dei problemi cazzo i vostri un alpino con problemi con dei problemi new speciare il tasto e spelli e sperare castoro da roba raga facciamo gli omicidi supporta non guarda questa roba a casa ecco un cadavere galleggiante un cadavere che galleggia la gente non sa notare e poi balli nell'acqua ma quindi io riesco a fare questo ballo qua aspetta a ea oscilla nell'acqua si ballare nell'acqua e non so io sono troppo troppe cose sono misteri di otto chi con noi fatte 10 kg sono troppi bug di questo gioco che ormai guardate ne ho stillate tre o quattro anzi gli scopro sempre a non lo so a non so io allora ma non c'è chi no io non vedere da lontano allora essere brutti tanto gli ho fatto capire che noi siamo qua ma io penso che dovremmo andare lì vieni qua amore wow 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 calma wow 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 calma 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 tutti ecco non dobbiamo la casa una mano terra terra cacchio mi smira ok ma dove sei ce n'è un altro qui c'è un altro qui ma vabbè ok si bella ma sono tutti noob ma porco schifo ma chiese il monaco mi ha colpito ragamari animati subito e ci c'è uno deficiente quello che fa fa nei ritorni 5 cildini e c'era un ebete nato qua no ecco le robe e per favore castoro e cambiamo ok ho capito grazie per avermi messo a terra ma io ho fatto un po male quindi se può curarmi basta prendermi sopra siamo un castoro mi molesta castoro molesta cosa è successo molesta la mia skin vabbè dai lottato un po si quanti sono no vabbè da due nobili t si vabbè cos'è cos'è chissi in abbi sono questo maria vergine ma che ti sei vergine eh ah io ho capito eh ciao eh vabbè sì vabbè ma che cazzo sono ma cos'è secondi serie serie a un trappato i due ti aveva un ucciso in un tracquato ma non lo so posso ma c'è posto si è al passo vabbè raga spero che il video sia piaciuto un saluto e alla prossima